Dottore Cuomo, anche quest'anno il progetto è finito ma sicuramente con tante novità perché si guarda già al futuro. Assolutamente sì, è finita la quarta edizione del Master, è andata tutto bene, è finita ma ha iniziato la nuova, non dico avventura, è iniziato un nuovo progetto che è quello dei laboratori mediterranei. Ecco qui in Camera di Commercio, grazie alla dottoressa Sabella, al presidente che oggi comunque è stato anche investito da quest'altro incarico come vicepresidente di Union Camere Calabria, hanno da subito insomma accolto questa opportunità, questa opportunità che ci porterà a questa scuola importante di valore nazionale e internazionale, quindi questi Master internazionali si rivolgono a chi? Principalmente ai nostri ragazzi, quindi gli diamo un'opportunità, quindi gli diamo e ci diamo un'opportunità di mantenere queste tradizioni, di rimanere comunque dei soggetti a livello gastronomico e alimentare, dei soggetti primari, di prima importanza. Di conseguenza abbiamo attirato questa curiosità e oggi abbiamo Brian Paulson che è il guru della charcuterie nel mondo, ha scritto tanti libri, insegna all'Università Gastronomica del Michigan negli Stati Uniti e lui ha annunciato che farà il prossimo libro proprio sulla nostra scuola. Quindi dobbiamo dire che l'internazionalizzazione serve anche a noi, risusciamo a metterla in campo? Assolutamente, abbiamo anche l'executive chef nonché buyer di Italy Mosca, questo signore, questo chef è venuto a partecipare a questo corso, ma cosa è successo? Che conoscendo il nostro territorio, perché i nostri laboratori non sono chiusi in una stanza, i nostri laboratori sono aperti, sono in tutti i territori, siamo negli allevamenti, abbiamo visitato allevamenti di bufala, abbiamo visitato allevamenti di bovino, abbiamo visitato chi fa il formaggio, chi fa i salami, quindi abbiamo fatto promozione del territorio e nella promozione del territorio, torno a ripetere, gratuita, perché queste persone pagano per venire a scoprire queste eccellenze italiane. Di conseguenza cosa è successo? È successo che questi si sono messi in collegamento, ho visto scambiare formaggi, pecorini, salami, scambiare biglietti da visita, parlare in italiano, mezzo in inglese, comunque fare trade, che dal latino vuol dire trade, io do a te, tu dai a me. Quindi di conseguenza lo scopo della Camera di Commercio è proprio quello di suscitare questo trade in tutto il mondo. Grazie.